Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, siamo qualche giorno che non ci sentite ma perché ci siamo utili prendere da un'esperienza in campeggio di quelle wild e siamo dovuti andare a Genova per fare delle visite. Però la prossima settimana è una settimana bomba per noi perché martedì partiamo per la Francia, faremo la via del sale, non so se la conoscete penso di sì perché è famosissima e andremo sette giorni in giro per la Francia, tenda, sorge, su spalle, chi più ne ha più ne metta faremo anche un po' di vita notturna francese e in più la bomba è che faremo il balcone di Marta, perché non lo conoscesse vado a vedere su internet e come al solito siamo sempre io e Luca che facciamo tutto in due però ne vorrei veramente una cosa bella che il balcone di Marta cosa devi fare? 240 gradini ma ce la farò però sotto sotto terra dopo che ho fatto questa alla fine andrò anche sulla rocca della vista perché non si può quindi preparatevi perché è veramente in estate quel voto però la parte bella che faremo anche il video così presentiamo il nostro mezzo non andremo via con la fiesta abbiamo dovuto noleggiare una macchina che la vedrete martedì comunque è stata un'estate veramente bella per noi auguriamo a tutti di finire un'estate come la finiremo noi e brindiamo a tutti voi, stay tuned bello